Musica Dalla agro-innovation alla food-innovation, ImageLine è al Seeds & Chips, un summit internazionale dedicato alle nuove tecnologie per l'agroalimentare. Proprio in questa occasione abbiamo coinvolto i protagonisti di questo comparto per chiedere secondo loro come digitale e tecnologia cambieranno l'agricoltura e in tanti hanno partecipato a questa iniziativa che ha creato una vera e propria instant exhibition, quindi dal primo al quarto giorno di Seeds & Chips abbiamo raccolto le immagini e i commenti, le impressioni di start-up, ricercatori, agricoltori, chef, per raccontare qual è la loro visione e non mancheremo di condividere il risultato di questa mostra anche online, ad esempio sulla pagina Facebook ed ImageLine.